La Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee presenta al Museo Madre di Napoli la mostra in piedi in cima a un edificio, Film 2008-2019, la prima retrospettiva dedicata esclusivamente alla produzione videofilmica di Liam Gillick, artista contemporaneo di fama internazionale. Per la prima volta vengono presentati insieme i suoi più importanti video e film in un allestimento appositamente concepito per integrare la visione delle opere nell'architettura del museo. È stata, credo, anche l'influenza di alcuni registi sperimentali che io ho guardato, che ho studiato, per esempio nella dislocazione tra suono e immagine, come in questa mostra, che apparentemente priva la possibilità di avere un'esperienza unica di quello che stai vedendo e completa, ma che in realtà ti spinge a vedere meglio, perché ti spinge anche a cercare di capire meglio e quindi quello che sembra essere come dire una manchevolezza, forse, come nella lezione di questi registi, può essere invece un più di informazione critica. A partire dai primi anni 90, Gillick ha prodotto opere che includono l'installazione, la scultura, l'intervento testuale, il video, il suono e l'animazione digitale e che si sostanziano nella relazione con un'intensa produzione teorica e critica. Al centro della sua pratica artistica un insieme complesso di temi tra loro profondamente correlati. La relazione con lo spazio, inteso non solo come fisico, ma anche politico, sociale ed economico, la centralità del ruolo dello spettatore come agente attivo e produttore di significato. E' proprio il confronto con lo spettatore fin dagli esordi al centro del lavoro di ricerca di Gillick attraverso la creazione di situazioni sia formali che performative in cui sono messi criticamente in discussioni alcuni parametri legati alla fruizione dell'arte. La mostra al madre, a cura di Alberto Salvadori e dello stesso direttore del museo Andrea Bigliani presenta per la prima volta insieme i più importanti video e film di Gillick realizzati dal 2008 in poi in un allestimento che integra le opere proiettate o su monitor nell'architettura del museo. Per la prima volta il pubblico può così approfondire la componente più intima della ricerca dell'artista. Otto Film e Video, la prima retrospettiva dedicata a questa parte della produzione dell'artista britannico Liam Gillick per raccontare il mondo che ci circonda. Da cittadino responsabile, quasi da giornalista, Liam Gillick si interroga su cosa succede intorno a noi nella politica, nell'economia, nella società, nel modo in cui le macchine stanno sostituendo il lavoro manuale o in cui il ruolo degli intellettuali viene messo in crisi rispetto all'idea di una facilità di accesso alle informazioni. Tutto ciò lo interessa e con questa mostra ci invita a interessarcene, facendo nostra, come dire, la ricerca di una verità che non è quella che Liam dà in questa mostra ma che attraverso questa mostra ci invita, come altrettanti cittadini responsabili, a cogliere. A chiudere il percorso di mostra alcune sculture e installazioni diventate le opere più iconiche di Gillick. Basate su semplici strutture modulari in metallo e plexiglass, queste opere rivelano come la tradizione del minimalismo sia stata neutralizzata e inglobata dall'industria dell'intrattenimento e della corporate culture contemporanea. Terminando poi con una sala di opere astratte che per l'artista sono, come dire, la verità dell'arte, la purezza ultima, i colori, le forme, quello che ci emoziona o meno quando appunto vediamo un'arte pura, un'arte astratta e quindi dice di essere addirittura ideologicamente innamorato dell'astrazione, così come credo lo sia della verità.